Musica Di nuovo ben trovati a questo nuovo appuntamento con Cuore Vivo, la nostra rubrica che prende il nome dall'omonima associazione. Oggi siamo di nuovo in compagnia del presidente e il dottor Roberto Antonicelli che di nuovo ringrazio per essere con noi, oltre che presidente lei appunto è anche il direttore del reparto di cardiologia dell'IRCA di Ancora. Insomma di nuovo grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Dunque oggi in particolare con lei dottore approfondiremo un tema, abbiamo parlato abbondantemente di quelli che sono i rischi collegati all'infarto miocardico. Oggi in particolare però vogliamo approfondire un altro tema che come si vede anche dal nostro titolo è appunto legato all'ipertensione arteriosa. Allora innanzitutto spieghiamo al nostro pubblico di che cosa stiamo parlando. L'ipertensione arteriosa come dice il nome è la presenza di valori di pressione sanguigna superiori a quelli che sono consigliati alla norma. Naturalmente non è semplicissimo definire l'ipertensione arteriosa con dei soli valori numerici anche se poi nella sostanza è pratico fare così perché ci sono delle differenze che sono rappresentate soprattutto da aspetti anagrafici per cui valori di pressione che a una certa età possono essere relativamente accettabili in altre età lo sono meno. Comunque indicativamente seguendo quelli che sono i consigli delle società internazionali noi possiamo considerare che un valore di pressione massima noto come sistolica può essere considerato accettabile quando è tra i 130 e i 140 cioè al di sotto di questo valore. Naturalmente in una fascia di età media un valore di 140 a un'età più grande non dico avanzata può essere tollerato anche se dobbiamo subito sfatare il fatto che le persone grandi possono avere pressioni più alte questo è sbagliato e lo stesso valore di 130 che una persona adulta è accettabile in una persona molto giovane può essere un elemento di sospetto questo per quanto riguarda la cosiddetta pressione sistolica la massima per quanto riguarda la minima un valore accettabile può essere tra gli 85 e 90 quindi diciamo che sono sempre al di sotto chiaro ovviamente sono come lei giustamente precisava valori che variano anche in base all'età del soggetto di riferimento ma volendo dare anche altri dati e quindi guardando ai numeri lo abbiamo detto anche nell'arco di altre puntate la popolazione italiana ma in generale la popolazione mondiale sta invecchiando quindi l'età media è avanzata di molto e quindi volendo vedere anche quelli che sono i dati che cosa possiamo dire per quello che riguarda le persone che soffrono di ipertensione arteriosa in Italia? È in aumento? Allora allo stato attuale se vogliamo riportare dei dati della nostra nazione dei dati italiani noi possiamo stimare tra i 15 e i 16 milioni di soggetti in italiani affetti da ipertensione arteriosa per cui come vedete è sicuramente il fattore di rischio più presente nella popolazione ci tengo a sottolineare questo aspetto quando noi parliamo di ipertensione arteriosa parliamo di un fattore di rischio non è tecnicamente una malattia e la differenza fra un fattore di rischio e una malattia è che la malattia è quello che noi sappiamo la malattia è l'infarto se ne è parlato la malattia è la fibrillazione, lo scompensa se ne parlerà il fattore di rischio è qualcosa che è presente nell'organismo e che predispone allo sviluppo di una malattia per cui tecnicamente una persona con la pressione alta non è un malato ma è un portatore di un fattore di rischio che lo espone allo sviluppo di una malattia è molto importante questo concetto Allora andiamo a vedere quali possono essere a questo punto anche gli aspetti su cui si può andare ad agire innanzitutto parliamo di quelle che sono le cause lei giustamente sottolineava non è una patologia però è un fattore di rischio e quindi come tale va tenuto sotto controllo Allora l'ipertensione arteriosa in realtà nasconde sotto il suo cappello diverse possibili patologie la più rappresentata la cosiddetta ipertensione arteriosa primaria o essenziale o sistemica a diversi nomi è un fattore di rischio che riconosce una base ereditaria ovvero sia noi ormai sappiamo con certezza che questo elemento di ipertensione arteriosa in qualche modo si trasmette con dei geni di padre in figlio noi vediamo ed è pratica comune che è molto facile trovare soggetti ipertesi che provengono da famiglie in cui o il padre o la madre o entrambi o i nonni sono affetti da questo fattore di rischio per cui possiamo dire con certezza che questo fattore di rischio si trasmette nella grandissima parte dei casi parliamo di oltre il 90-95% dei casi esiste una piccola parte una parte minoritaria dove l'ipertensione arteriosa è cosiddetta secondaria ovvero sia ci sono delle patologie esempio renali, esempio endocrine che in qualche modo altrano aspetti ormonali aspetti della funzione del rene e generano l'ipertensione arteriosa in questi casi noi parliamo di ipertensioni secondarie e naturalmente l'approccio sia terapeutico che diagnostico è diverso andiamo a vedere anche quelli che sono quindi le modalità abbiamo detto non è una patologia quindi magari non diciamo come si cura ma come si può prevenire quindi quali sono magari intanto gli atteggiamenti giusti da tenere e soprattutto poi come si convive invece con questo fattore di rischio allora innanzitutto preciso l'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio ma che si cura e si deve curare in larga parte con i farmaci, le medicine magari ne parleremo però altrettanto importante è attuare quelle buone pratiche la cosiddetta terapia non farmacologica che è di grandissimo aiuto in realtà in tutte le malattie ed è particolarmente importante nella gestione dei fattori di rischio ovvero sia noi conosciamo, sappiamo per certo che per esempio l'obesità, l'aumento di peso è strettamente legata all'aumento di pressione certe abitudini alimentari l'utilizzare per esempio mangiare particolarmente carni rosse è legato all'incremento dei valori pressori mentre di contro l'utilizzare verdure è di per sé un fattore che abbassa la pressione arteriosa il fumo pratica ovviamente da bandire è un altro dei volani principali dell'incremento dei valori pressori per cui la battaglia a libertinzione a questo fattore di rischio importantissimo perché poi a questo fattore di rischio ci sono collegate quelle che sono le principali patologie cardiovascolari primo tra tutti l'ictus, l'infarto, lo scompenso per cui è un fattore di rischio straordinariamente importante bene, noi dobbiamo cominciare a combatterlo proprio con degli adeguati stili di vita quelli che ho detto ma ne cito un altro un'adeguata attività fisica se ne è parlato nelle precedenti incontri di cuore vivo l'importanza dell'attività fisica bene, anche nel trattare un fattore di rischio come l'ipertensione arteriosa il fare un'attività fisica corretta, strutturata è un elemento di prevenzione assolutamente fondamentale elementi che poi come giustamente lei sottolineava valgono per la salute a 360 gradi volendo concentrarci anche però su quello che riguarda l'aspetto delle medicine quindi sull'aspetto più farmacologico ecco in questo caso che cosa possiamo dire? attualmente noi disponiamo di un armamentario di farmaci veramente importante, utilissimo però dirò adesso una cosa che sembra banale ma in realtà il primo punto è che le medicine bisogna prenderle perché noi assistiamo a degli aspetti un po' paradossali persone che hanno una diagnosi di ipertensione innanzitutto è importante precisare che moltissime persone non sanno di essere ipertesi e questo è un elemento importantissimo per cui è importantissimo fare delle campagne noi come cuore vivo l'abbiamo fatto di misurazione della pressione della popolazione perché uno degli elementi fondamentali è sapere o meno di essere ipertesi un altro aspetto dopo il fatto di essere a conoscenza di essere portatori o meno di questo fattore di rischio è il trattamento molte persone assumono una pillola e per questo fatto ritengono in qualche modo di aver risolto il problema questo è un altro errore perché è importantissimo assumere la pillola ma è importantissimo monitorizzare l'assunzione della pillola e l'efficacia della pillola sulla pressione stessa perché che cosa sappiamo noi dall'esperienza pratica che molte persone assumono la pillola per la pressione contro la pressione e dopo non si monitorizzano non si controllano per cui abbiamo moltissimi casi in cui anche persone trattate non hanno raggiunto i valori target di pressione le ricordo 130 di massima gli 80-85 di minima che sono quelli desiderati per cui la cura è fondamentale disponiamo di tantissimi farmaci efficaci e ben tolerati ma bisogna prenderli prima cosa e bisogna controllarli cosa ancora più importante quando si inizia una cura si può comunque interrompere magari ecco se vediamo che comunque ci sono esiti dopo ovviamente un po' che seguiamo la cura positivi Allora questa è una domanda molto interessante perché mi permette di far luce su un aspetto che fino a un po' di anni fa non era chiaro la cura dell'ipertensione come tutte le cure farmacologiche deve essere sartoriale adesso questo è un termine che piace molto in medicina che cosa vuol dire? vuol dire che deve essere cucita addosso ai singoli soggetti ai singoli pazienti ovvero non c'è una cura che va bene per tutti e anche se noi disponiamo di tantissimi farmaci questi farmaci devono essere adattati al singolo persona con dei uso questa parola cocktail che siano adatti per il singolo soggetto e magari non sono altrettanto adatti per un altro perché faccio questa premessa? perché la cura deve essere adattata e come un vestito deve essere adattato non solo alla taglia della persona ma anche alla stagione noi sappiamo che la pressione arteriosa risente di tantissimi elementi lo stress il caldo il freddo la giornata noi sappiamo che la pressione arteriosa varia durante le ore del giorno noi sappiamo che trova un valore più alto per esempio la mattina presto poi scende nel pomeriggio è bassa più bassa durante la notte questo generalmente è così e poi si rialza per cui siccome la pressione è una variabile noi dobbiamo imparare a conoscerla e adattare facevo l'esempio del vestito perché come noi d'inverno ci vestiamo pesantemente ed estate ci alleggeriamo questo fa sì che anche con la terapia naturalmente sotto controllo del medico sotto autocontrollo della pressione noi possiamo adattare per cui se la domanda è interrompere la terapia questa è una domanda che va contestualizzata al singolo paziente se invece diciamo adattare la terapia modificandola sulla persona e soprattutto sulle stagioni questa è una cosa che assolutamente dobbiamo fare e le faccio quest'ultima domanda perché non posso esimermi ma le chiedo di essere telegrafico perché purtroppo abbiamo poco tempo il sale quanto incide? beh sul sale è quasi impossibile essere telegrafici sul sale perché si potrebbe parlare moltissimo cercherò di esserlo il sale svolge una funzione e diciamo propedeutica in qualche modo allo sviluppo di ipertensione ma solo in alcuni soggetti ci sono dei soggetti adesso non amo parlare in inglese ma in inglese si dice meglio salt sensitive cioè sensibili al sale che rispondono altri soggetti no per cui in qualche modo è un buon consiglio per tutti anche per i non ipertesi limitare comunque l'utilizzo di sale e vi ricordo che il sale non è soltanto quello che noi aggiungiamo ai cibi ma il sale è presente in tantissimi cibi già confezionati tra virgolette che noi mangiamo per cui dobbiamo prendere l'abitudine di non salarli e di usare pochissimo sale aggiunto questa è una buona abitudine in assoluto ma per quanto riguarda lo specifico di ipertesi dobbiamo sicuramente essere attenti all'utilizzo del sale e poi naturalmente vedere nel singolo perché ci sono persone che rispondono di più e in questo caso allora la dieta di sale è molto importante emettere persone rispondono di meno per cui fare un sacrificio tra virgolette in questi casi potrebbe non essere indispensabile ci dobbiamo fermare ma io la ringrazio come sempre per essere stato nostro ospite quindi grazie al presidente dell'associazione cuore vivo Roberto Antonicelli grazie davvero per essere stato con noi grazie buonasera a tutti noi ci fermiamo io vi ricordo che però potete seguirci anche attraverso la pagina facebook di tv march e dell'associazione vi ringrazio quindi ancora una volta per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.